No, no, è morto il cardinale statunitense Bernard Francis Lowe. La notizia del decesso avvenuto a Roma è stata annunciata dalla sala stampa della Santa Sede. Coinvolto nell'inchiesta Spotlight sui casi di pedofilia nella diocesi di Boston, di cui era arcivescovo, l'86enne porporato originario del Messico fu costretto a dimettersi per non aver denunciato pubblicamente i sacerdoti coinvolti prima di essere trasferito, non senza polemiche, proprio a Roma, dove sino al 2011 è stato arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. L'inchiesta Spotlight del quotidiano Boston Globe, da cui è stato tratto l'omonimo film, fu tra l'altro premiata col Pulitzer. Innalzato alla dignità cardinalizia nel concistoro del 25 maggio 1985, la sua posizione fu discussa in un summit tenutosi nel 2002 e al cui capo vi fu Papa Giovanni Paolo II.